L'immigrazione di massa non c'è nessuna teoria del complotto, è semplicemente una lotta di classe. I dominanti hanno tutto l'interesse a deportare masse di africani che pagano meno sui posti di lavoro, grazie ai quali abbassano i salari in generale dei lavoratori. Si chiama lotta di classe, non complotto. Che si sia d'accordo o meno con quanto Diego Fusaro pensa e dice, non ha davvero molta importanza. Il teoretta torinese affascina, spiega, attira gli estremi e polarizza l'attenzione come pochi. Potere della semplicità applicata al sapere.